cavolo sono gasatissimo perché conoscevo già questa cosa ma ho scoperto che posso applicarla anche nel settore del disegno 3d più vado avanti più mi rendo conto che il 3d cioè il modello 3d e la modellazione 3d non è solo una questione di quante ore dedico nel modellare una cosa ma a come collego le cose che ci sono sul web e quindi una questione di attivare quei collegamenti fra cose che esistono già quando facevo grafica mi chiedevo ma cosa serviranno questi simboli qua non mi sono mai serviti a niente invece questa volta nel 3d mi stanno servendo molto perché c'è già una rubrica infinita di font barra simboli che possono essere caricati sopra il mio pc e possono essere utilizzati con sketch up e posso ricavare dei disegni questo corso lo faccio è un po dimostrativo ma lo voglio fare comunque spiegando mia voce voglio realizzare dei pog finché i ragazzi comincino a giocare ancora con questi pog sarà dei corsi in cui dovrò sia realizzarlo che poi stamparlo ora voglio definire la prima grafica e la prima grafica la scelgo in questi simboli qua pog è un gioco che utilizzavano i ragazzi si mettevano questi dischetti in pila e rovesciati con un altro pog bisognava un po più spesso bisognava picchiare sopra questo sopra questa pilla di pog e quelli che si girano te li tieni quelli che non si girano li rimetti li alla fine del gioco chi ne ha di più vince anche a seconda di quanto valgono le carte molto belli utilizzavo questi qua ne avevo veramente veramente tanti vediamo come sono fatti sono dei semplici dischetti con sopra dei disegni cominciamo subito con la grafica di base scegliamo una cosa che contraddistingua i pog sto facendo la scelta del marchio dei miei pog i miei pog li faccio con il mio marchio personale direi apro subito un vecchio lavoro che ho fatto che era la creazione di un premio c'è il video che è molto lungo sul web su come vi si apre la mente capite che potete utilizzare sketchup per qualsiasi cosa copio il mio logo che voglio che contrassegni il mio pog sul retro e lo incollo questo qua è precisamente il tracciato del mio logo prendo un dischetto definisco già la misura del mio pog voglio che sia largo circa 5 centimetri spostiamoci e andiamo al centro scriviamo 25 e digitiamo invio raggio 25 vado su informazioni entità li faccio diventare tondi molto tondi perché li voglio belli poi estrudiamo già il nostro piattino 5 centimetri di diametro quindi facciamo un millimetro creato la mia base il mio piattino prendiamo il mio logo quindi ho quindi ora realizzato la mia parte sul retro del pog che non è più chiamato pog ma lo chiamo fab cancelletto 1 è il primo pezzo quello che in tutti i giochi viene considerato il più difficile da trovare il più costoso io giocavo a magic the gathering per esempio la carta numero 1 che se non ricordo male erano o i mox o il black lotus costavano veramente un sacco di soldi un sacco di soldi e in tutti i giochi che fanno ci puntano molto andiamo su da font voglio far vedere come li creo e prendiamo l'immagine del gufo scarichiamo questo font qua faccio doppio click sul file che ho e lo installo sul mio pc la cosa è talmente veloce che non sembra neanche vera poi vado su sketch up vado su testo scrivo andiamo qua scriviamo c h o mi trova i miei gufi esporto la stl esporto lo chiamo pog1 si lo importa all'interno di mesh mixer andatevi a vedere i corsi che ho fatto su mesh mixer se non lo sapete utilizzare replace cioè voglio solo questo oggetto qua e poi vado a eliminare le parti che sono in eccesso questo elemento sicuramente ha degli errori andiamo in analytics e facciamo inspector quindi modo più rapido per sistemare l'errore e rendere anche l'oggetto per me un po più bello è fare un mix solid vi lo fate vedere come funziona potete definire l'intensità delle cose che modificate io alzo un po l'intensità clicco su update e trovo il miglior compromesso fra quantità di elementi dell'immagine e poi peso effettivo dell'oggetto mi sembra forse anche troppo definito ma tanto è piccolo andiamo su accetta controlliamo il nostro oggetto com'è se è bello brutto se tutto è regolare prima per esempio mi sono accorto che uno di questi cuffetti era staccato quindi ho dovuto risistemare il file ora non è più staccato molto bello ora che ho corretto il mio file attraverso mesh mixer lo sovrascrivo praticamente sull'htl che avevo generato da sketchup e ora caricherò in diretta il file all'interno di fingers perché così voi sapete che è gratuito e libero vado sul mio profilo se non sapete cos'è guardatelo è un sito molto interessante su cui le persone caricano i disegni e tutti possono scaricarli tutto open tutto gratuito ci sono solo delle limitazioni io per esempio ho il mio profilo vado a caricare l'oggetto queste qua sono tutte le mie cose caricato tutti questi oggetti qua molte sono delle scansioni che ho fatto a dei vecchi soprammobili che avevo ora inserisco il mio oggetto carico l'oggetto trascino il file che ho creato l'htl definitivo e lo controllo all'interno di cura per esser sicuro che si stampi correttamente e sembra che venga stampato bene controlliamo ogni strato vado all'interno di cura in posto utilizzo vecchio cura perché con quello nuovo metterla pausa è un po più difficile possibile vi farò vedere più avanti come fare per fare il g code doppio colore faccio prima usare questo cura qua vecchia versione da 5 centimetri magari faccio la prova adesso a 6 perché forse 5 è un po piccolo scriviamo 60 lo deformo e andiamo a impostare i parametri che poi servono per per stampare l'oggetto da qua in poi estrarrò uno spezzone di questo video e lo caricherò su fingers per far sapere agli altri come stampare l'oggetto facciamo in stampa uno 0,15 in altezza livello spessori delle pareti io lo sto stampando a 0,5 con un giallo a 0,5 se avete 0,4 dovete modificarlo dovete mettere 0,8 e qua 0,4 poi la ritrazione l'abilito si controllo sempre che ora lo z hoop non lo voglio lo lascio così poi lo spessore alto basso lo metto a 1 spessore densità di riempimento al 100 per cento perché devono reggere la velocità di stampa la porto a 45 mm al secondo vado lento tanto non ho fretta la temperatura di stampa la porto 220 220 perché siamo in un periodo freddo la stanza si raffredda sempre un po di più anche se è riscaldata quindi lavoro con temperature più alte come flusso metto un 96 come tipo di adesione al piano niente vado solo a dargli tre linee 5 linee anzi no gliene do tre attorno e come tipo di supporto in realtà non lo voglio neanche in avanzato la distanza di ritrazione dipende dalla vostra stampante mio bowden 35 e 7 come cutoff non voglio niente il primo livello lo faccio da 0 2 sì e poi le velocità sono queste che vedete 90 per l'attraversamento poi tutto a 45 a parte il primo livello che lo voglio a 30 raffreddamento della ventola lo metto al 40 per cento perché anzi lo lascio al 35 lo abbasso un attimino perché prima di tutto per questo oggetto non serve neanche ma poi ho una ventola che spinge molto e mi raffredda la testina qualcuno a qualcuno li è capitato se non sbaglio nino da genova mascherito mi ha detto mi si raffredda la testina non so come mai uno dei motivi potrebbe essere la ventola che va molto più veloce e se impostata più bassa la temperatura viene mantenuta metto subito un plugin della pausa plugin della pausa seleziono questo plugin schiaccio la freccettina giù e vado a definire il mio livello la pausa del cambio colore la voglio quando finiscono i gufetti sotto quindi 26 22 4 3 livelli in cui vediamo che il 26esimo si 3 livelli in cui cambio il colore quindi al 23 al livello 23 una mezzo 3.45 3.45 anzi 3.5 attendo che la visualizzazione alla fine si modifichi e controllo che a livello numero 23 la stampante faccia la pausa e in realtà la fa molto molto bene la fa qua poi voglio che l'oggetto sia stampato il più vicino possibile a me quindi lo sposto verso di me sempre da tenere una zona in cui stampare gli oggetti piccoli fatto questo vado a prendere la memory card e clicco qua mi si salva direttamente sulla memory card butto fuori il file ora vediamo com'è uscito ora abbiamo inserito precedentemente il nostro file su fingers abbiamo trascinato qual file in stl lo ha caricato finalmente e bisogna dargli le informazioni base diamo per la prima volta questa procedura qua così magari tu la scopri o comunque la sai già va beh ma se la scopri dopo ti sarà più semplice farlo è molto importante provate a pensare se provate a pensare se ognuno di noi ha un'idea interessante bella la cura un po la stampa la usa per lui e poi la mette in rete ognuno di noi lo fa almeno una volta nella loro vita da un contributo immenso a tutto il resto del mondo e a tutti quelli che poi andranno utilizzare il tuo file senza dover andare a pagare qualcuno o riconoscere qualcosa a qualcuno sempre ovviamente per uso personale informazione base poggames cancelletto 1 ogni pog carico metto cancelletto 2 cancelletto 3 eccetera eccetera poggames mettiamo anche un'altra chiave di ricerca che è gufo all seleziona la categoria metterei games se lo trovo non si sa scriviamo games games eccolo qua poi come licenza lascio quella cioè quella che praticamente non copre niente come tag metto pog importantissimi tag perché aiutano le persone a trovarvi pog games quello che comunque scrivo nel titolo poi devo riportarlo all toy e in realtà gadget for kid e più andrò avanti più scoprirò quelle che sono le parole chiave che serviranno al mio oggetto per essere posizionato anche nella descrizione è importante scrivere qualcosa di intelligente in modo che le persone comprendano quello che stiamo facendo per ora lo scrivo in italiano perché non sono capace a tradurre bene l'inglese poi i più avanti lo tradurrò però per ora accontentiamoci di questo compilato una descrizione molto rapida e veloce mi chiede anche altre cose che io in genere non guardo mai sono le applicazioni che supportano l'oggetto che carichi poi mi chiede che programma ho utilizzato forse posso metterlo in un gruppo che creo per esempio se avessi creato il gruppo pog o games avrei potuto inserirlo qua più avanti creerò dei gruppi con voi e qua mi chiede che cosa hai usato e io scrivo sketch up anche se ho usato sia sketch up che mesh mixer fatto questo io posso caricare il mio oggetto e viene caricato sopra gli oggetti che carico passerà un attimo fra la home di tantissime persone e poi però sfumerà gli oggetti che caricate non saranno sempre promossi da thingverse ma dovranno essere ricercati dalle persone molto importante posizionare bene l'oggetto il file 3d all'interno di questo sito questo sito è un portale molto interessante potete fare è come facebook però per i file 3d se questo video ti è stato utile mettici sotto un like condividilo e soprattutto lascia un commento per sapere se sono sulla via giusta per dare informazioni utili a tutti alla prossima a tutti i nostri spettatori e tutti i nostri spettatori e tutti i nostri spettatori Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.